Presentato a Lauria il progetto Home Care Premium, il servizio di assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti. Il progetto, che prevede un contributo mensile fino a 1200 euro per prestazioni socioassistenziali o per contributo spese, è rivolto agli iscritti IMSS gestione dipendenti pubblici, ai pensionati della pubblica amministrazione, ai loro coniugi conviventi e ai loro familiari di primo grado. Al bando dell'IMS hanno aderito Potenza, Matera e i 12 comuni del Lago Negrese, il cui programma è stato presentato in questo incontro di Lauria. Nell'ambito Lago Negrese i beneficiari potranno essere massimo 120, minori, adulti o anziani, purché siano residenti in uno di questi 12 comuni, Castelluccio Inferiore e Superiore, Castel Saraceno, Lago Negro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina e Vigianello. Le domande per accedere al bando possono essere inviate entro il 27 febbraio. Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.imps.it. Grazie a tutti.